La mia posizione, grazie Presidente, la posizione del gruppo Città Nuova è molto semplice e la riberisco. Siamo per scelta consiglieri comunali, quindi abbiamo scelto di assumere un ruolo pubblico, consigliere, sindaco, presidente, quindi la scelta di essere soggetti pubblici è una nostra scelta personale, nessuno ci ha imposto di candidarci. Siamo in un luogo pubblico, perché l'aula consigliere è un luogo pubblico, siamo in un'assemblea pubblica perché il consiglio comunale è pubblico. Ricordo quello che ho già detto allo scorso consiglio comunale, che il consiglio potrebbe tenersi anche a piazza San Pietro a Frascati. Il mio gruppo è totalmente contrario ad ogni posizione, ad ogni regolamentazione che va a limitare il diritto di riprese audiovisive e il diritto di riprese fotografiche. Dovrebbe essere consentito a tutti quanti indistintamente di riprendere sia a livello fotografico che sia a livello di audiovisivi, quindi di tele riprendere e poi trasmettere. La legge tutela noi soggetti pubblici da ogni uso distorto che giornalisti, dal momento in cui volessero strumentalizzare queste immagini fotografiche o queste riprese audiovisive. Pertanto faccio già una dichiarazione di voto complessiva, premettendo che sono contrario e quindi che voterò contro la proposta di regolamento presentata. Il mio gruppo non era presente, non era costituito al momento in cui il Presidente Adotti discuteva di questa posizione, quindi voteremo contro quello che è la posizione del regolamento così proposto. Voteremo contro gli emendamenti che vanno a disciplinare questa possibilità restrittiva perché siamo per una regolamentare consigliere peduto, la libertà va regolamentata ma solo in un momento, cioè sarebbe stato sufficiente dire chi è che chiede di riprendere la testata del tuscolo, ci si è nota che la testata del tuscolo ha chiesto di riprendere, riprende per dieci ore il Consiglio Comunale, per dieci ore riprende se la testata del tuscolo poi mette online immagine distorte risponderà penalmente dell'azione che ha fatto. Questo prevede la legge. Ogni altra limitazione oltre che essere ridicola perché questa limitazione temporale dieci minuti prima, un quarto d'ora dopo è esclusivamente ridicola. Concluda consigliere Cori. Quindi il mio voto è contrario a tutto. Grazie. Grazie consigliere Cori.